In Grecia si avvicina il momento dell'attesa risposta. Sì o no al referendum sugli accordi con i creditori internazionali. Le piazze si sono spaccate nelle manifestazioni parallele contemporanee di questo venerdì sera, una a favore e l'altra contro. Fotografia di un paese diviso alla vigilia del voto, che sarà anche un test sul gradimento del governo Tsipras. Per il ministro delle finanze greco Varoufakis, se vincerà il no, il primo ministro si recherà lunedì a Bruxelles, firmerà un accordo migliore di quello proposto e martedì riapriranno le banche. Gli occhi dell'Europa sono puntati sulla Grecia. In ballo potrebbe esserci la tenuta dell'euro e la stabilità politica dell'intera Unione. Per i sondaggi due schieramenti sono alla pari. I seggi domenica chiuderanno alle 18 ora italiana. Intorno alle 20 ci saranno i primi risultati indicativi perché non ci saranno exit poll. L'economia del paese langue. Gli istituti di credito restano chiusi. La liquidità delle banche è assicurata solo fino a lunedì sera, salvo un intervento della Banca Centrale Europea. A urne chiuse è l'incertezza sul futuro a prevalere.